Ciao, sono Alice. Ecco per voi l'anteprima del nuovo volantino Acqua e Sapore. Ciao, sono Alice. Visita anche il mio blog su Trova Volantini. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Siete in tantissimi a guardare i nostri video su Trova Volantini, ma non tutti ci seguite. Ricordate, iscriversi è gratis, vi basta un click, ma per noi fa una grande differenza. Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione. Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. E tu, in quale negozio vai? Scrivili nei commenti. Vuoi essere tra i primi a conoscere le offerte più convenienti? Iscriviti al mio canale Telegram e non perderti neanche un'occasione. Su trovavolantini.it le offerte della tua città a portata di un click. Iscriviti al mio canale Telegram e non perderti neanche un click. Iscriviti al mio canale Telegram e non perderti neanche un click. Iscriviti al mio canale Telegram e non perderti neanche un click. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.